Che tu sia uno sviluppatore, un sistemista o semplicemente un appassionato di self-hosting avrai sicuramente sentito parlare di Docker o Podman. Nell'ultimo decennio questo è diventato il modo preferito di moltissimi sviluppatori per distribuire le proprie app. E alcune distribuzioni Linux hanno perfino iniziato a integrarlo alla base per eseguire tutte le applicazioni. Ma cos'è Docker? Cos'è Podman? E perché sono tutti ossessionati dal loro utilizzo? Immagina questo scenario. Hai trovato questa bellissima app per catalogare le tue ricette in cucina. Provi ad installarla ma scopri che ha bisogno di A, B e C per funzionare. Queste sono dette dipendenze. Provi ad installare A, B e C ma scopri che B non può essere installata perché va in conflitto con altre dipendenze. E C non è nemmeno disponibile sul tuo sistema. Questo è uno scenario abbastanza comune su Linux e nell'open source in generale. Probabilmente lo sviluppatore usa un ambiente molto diverso dal tuo. Quindi per eseguire il suo software dovresti configurare un ambiente molto simile al suo ambiente di sviluppo. Follia. Allora per non incasinare il tuo sistema puoi creare una macchina virtuale e installarci tutto ciò che serve per eseguire sta benedetta app di cucina. Questo funziona ma perdi un sacco di tempo ad installare cose e le macchine virtuali sono molto più pesanti da eseguire. Se dovessi farlo per ogni applicazione ti servirebbe un intero data center. E se ti dicessi che esiste una soluzione migliore e si chiama container? Un container è una sorta di scatola che contiene tutto il necessario per eseguire un'applicazione. Il codice, le librerie, le dipendenze. Praticamente tutto ciò di cui ha bisogno per funzionare correttamente indipendentemente dall'ambiente in cui si trova. Concettualmente è come una macchina virtuale ma è molto più veloce ed efficiente perché le risorse vengono prese in prestito al momento del bisogno e rilasciate quando non servono più. Grazie ai container puoi eseguire ogni applicazione in un ambiente isolato senza creare conflitti tra le dipendenze. E se qualcosa va storto puoi resettare tutto e ricreare l'ambiente con un singolo comando. Chiaramente dire container vuol dire tutto e niente, è solo una tecnologia. Il mezzo con cui creo e gestisco questi container è Docker o Podman. Docker è una piattaforma open source che permette di creare, distribuire ed eseguire applicazioni all'interno di container. Podman fa la stessa cosa ma è sviluppato da Red Hat e si propone come rimpiazzo uno a uno di Docker supportando le stesse funzionalità e le stesse opzioni. Tenete conto che Docker è nato prima di Podman e spesso viene usato per riferirsi al generico concetto di container. Ok, ma cosa posso fare con Docker? Facciamo qualche esempio. Vuoi creare un tuo sito web personale? Con Docker puoi avere un server web pronto all'uso in pochi minuti. Vuoi ospitare il tuo server Nextcloud, Plex, Jellyfino Compagnia? Anche in questo caso Docker ti aiuta a farlo senza impazzire dietro configurazioni complicate. Oppure ancora, vuoi testare nuove applicazioni o ambienti di sviluppo? Docker ti permette di farlo senza sporcare il tuo sistema operativo. In sostanza è un modo veloce ed efficiente per eseguire app o servizi, ma anche per sviluppare le proprie applicazioni. Uso Docker da diversi anni ormai e ultimamente l'avete visto comparire sempre più spesso anche nei miei video, perché penso davvero che sia uno strumento indispensabile per chiunque lavori nell'informatica. Ecco perché sono entusiasta di annunciare il mio nuovo corso, Docker per comuni mortali, di cui questa era la lezione introduttiva. Il programma è pensato per chi vuole imparare Docker dalle basi con esempi pratici e di facile comprensione. E non è solo per sviluppatori, ma anche per sistemisti e appassionati di informatica e self-hosting. Al termine del corso sarete in grado di containerizzare e gestire le vostre applicazioni in autonomia e in sicurezza, oltre a saper risolvere da soli eventuali problemi che dovessero presentarsi. Come per tutti i miei corsi, ogni lezione preparata ad hoc e realizzata con la stessa qualità dei contenuti su YouTube. Che significa? Niente slide piene di testo, niente M, incespicamenti o lunghi silenzi imbarazzanti e soprattutto niente chiacchiere inutili o dettagli irrilevanti. Chi mi conosce sa già che ho uno stile molto diretto, amo gli schemi e le animazioni e soprattutto amo gli esempi pratici. E questo è tutto ciò che potete aspettarvi di trovare nel corso. Se volete capire Docker senza sentirvi sopraffatti dalla complessità, Docker per comuni mortali è il corso che fa per voi. Vi lascio il link al corso in descrizione e nel commento fissato, poi fatemi sapere che ne pensate. Ciao!